Vediamo adesso lo Champagne, conosciuto anche come Puma, una mutazione scoperta in Africa e riprodotta da Noah nel 2005. È un po' variabile da esemplare a esemplare, ma comunque tende a non avere disegno se non questa sorta di striped interrotto sulla schiena. Testa chiara, slavata tendente all'arancione, più scura al centro, la parte ventrale è molto chiara, bianca. E' una mutazione codominante, possibile sia dominante. E sono state fatte varie combo, come con l'ipo, con il paste, con il lesser. E diciamo che alcune hanno dei risultati sorprendenti. Diciamo che lo Champagne tende a distruggere il disegno. Per cui con il lesser da un animale molto chiaro, assolutamente senza disegno. Lo stesso con il pastel. È stata fatta la combo anche con il pinstripe. Comunque tutte le combo hanno la caratteristica che tendono a non avere il disegno.